Allora, Capitano Cristian De Riso, migliore in campo, questa semifinale vinta con tre reti di scarto contro Jaffanvok, se non siete con un piede in finale, qualcosa di più forse? Sì, abbiamo fatto una grande partita, per un gol non ci siamo arrivati in finale, ma alla semifinale di ritorno faremo un'altra grande partita e cercheremo di andare a testa alta in questa finale. Senti, oggi hai giocato un grandissimo match, addirittura hai fatto un gol straordinario, dove vuoi arrivare? Eh, cerco di dare sempre il massimo, ma non bisogna dare, non bisogna complimentarsi solo con me, infatti la squadra ha fatto anche una grande partita. Va benissimo, allora complimenti, ciao, grazie.